Noemi Signorile, vittoria 3-1 Allora qualche impressione? Sono contenta di aver vinto Un po' meno per il terzo set Perché abbiamo avuto un piccolo... Cioè abbiamo abbastato un po' la concentrazione Quindi abbiamo fatto rientrare in partita la Francia Però poi siamo state brave Abbiamo tenuto la testa lì E abbiamo voluto a casa la vittoria Per domani cosa ti aspetti contro il Belgio? Partita decisiva? Domani sì, sarà una partita tosca Perché comunque il Belgio sono una buona squadra Noi dobbiamo scendere il campo con la mentalità giusta Senza perdere mai l'ucidità Perché nella palla a volo basta un attimo E si capoggia e tutto Facendo un bilancio di queste due prime gare? Per adesso bene, dai Per adesso bene, siamo contenti Speriamo di continuare così